come pensi che dovrebbe funzionare tra fornitori di accesso e fornitori di contenuti qual è secondo te il punto di equilibrio tra queste due classi di soggetti ovvero deve funzionare come nella fonia in maniera piramidale o restare come oggi con il peering e il mutual agreement grazie grazie Mauro la tua domanda la mia risposta è ovviamente oserei dire deve restare come adesso quindi con accordi che sono regolamentati che sono accordi mutualistici quelli che noi tutti conosciamo come peering perché abbiamo visto che internet funziona bene così ma posso portare anche un caso personale, familiare diciamo così quindi al di fuori della nostra sfera molto tecnica in cui siamo abituati a ragionare mia moglie aveva accesso internet via mobile con un operatore che non aveva e non ha tuttora un collegamento diretto con Google e avendo lei la posta con Gmail aveva molta difficoltà a leggere la posta con con quel tipo di accesso scaduto il contratto alla scadenza naturale del contratto dopo un anno cambiato l'operatore ha potuto provare quella che noi chiamiamo user experience molto migliore e quindi è molto più contenta oltretutto paga anche di meno quindi sono più contento io che gliela pago e quindi siamo in tutte e due contenti credo che questo al di là di tanti tecnicismi che comunque sono importanti faccia proprio vedere come praticamente avere un accordo di peering sia molto importante e d'altra parte per l'operatore che non la fa vuol dire perdere clienti quindi sicuramente viva il peering grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti